Le prospettive al momento sono di grande incertezza, soprattutto per un territorio come il nostro che ha rapporti continuativi con la Russia e con l'Ucraina, facendo anche fatturati importanti. La regione Marche negli ultimi anni ha esportato più di 300 milioni nei confronti diretti della Russia e quasi 90 milioni nei confronti dell'Ucraina. Queste sono soltanto le esportazioni dirette. Dietro c'è tutto il contoterzismo che poi lavora nel nostro territorio, quindi parliamo di fatturati molto importanti. Ovviamente le sanzioni e le controsanzioni per noi sono devastanti, lo sono state in passato e come CNA le abbiamo sempre stigmatizzate e lo saranno anche adesso. Perché oltre alla perdita di fatturato e all'incertezza sul fatturato poi c'è tutta la questione dell'energia, delle materie prime. Considerate che ieri, dopo un decennio, il petrolio ai massimi livelli comunque si è attestato sopra i 100 dollari al barile, è arrivato a quotare fino a 105, poi si è fermato a 102. Il gas ad Amsterdam ha fatto più 51%, oltre 100 euro a megawattora. Quindi tutto questo sicuramente si ripercuoterà negativamente sulle bollette delle nostre famiglie e delle nostre imprese che già erano al limite e non riuscivano a supportare gli aumenti indiscriminati che c'erano stati negli ultimi mesi. Quindi la situazione è molto preoccupante, soprattutto per una regione come la nostra, ancora di più per una provincia come la nostra che ha fatto di quei paesi comunque un partner economico-commerciale fondamentale, un pilastro negli ultimi anni. Io lo posso dire perché da cinque anni sono i rappresentanti in Italia della Camera di Commercio dell'Industria Nazionale Bielorussa. La Bielorussia insieme alla Russia, all'Armenia, al Kazakistan e al Kyrgyzstan fa parte dell'Unione Doganale Euroasiatica. Quindi conosco bene quei mercati e purtroppo se la situazione bellica non terminerà a breve, al di là giustamente dell'emergenza umanitaria che mettiamo prima di tutto, e la guerra va stigmatizzata in qualsiasi luogo del mondo a prescindere, però la situazione economica per noi rischia davvero di diventare molto molto pesante. Quali i settori che stavano lavorando maggiormente con questi paesi? Assolutamente i settori manifatturieri, meccanica e mobile, che tra l'altro nel ruolo che ricoprono anche come presidente di Tecne, l'azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche, proprio per questi due settori stavamo lavorando bene, abbiamo fatto anche degli incontri B2B e dei webinar con gli operatori di quei paesi perché sono mercati interessanti. Nonostante un calo che c'era stato negli ultimi 7-8 anni, il 2021 rispetto alla Russia aveva fatto un più 21% per la nostra manifattura. Quindi la situazione è davvero preoccupante e bisogna assolutamente scongiurare che questa guerra vada avanti.